Buonasera a tutti dal telegiornale regionale per i sordi. Per quanto riguarda il covid in Toscana sono 752 i nuovi casi positivi. Il tasso sale al 5,25%, quindi dati in rialzo rispetto a ieri, ma anche con più esami fatti. Stanno partendo le lettere di sospensione per gli operatori sanitari Novax, lo ha detto il presidente Gianni, che in Toscana sono circa 4.500. Chi non intende vaccinarsi non può prendersi cura degli altri. E il presidente Gianni ha anche detto, lotterò fino alla fine con coloro che non si vogliono vaccinare. Il nostro è un atteggiamento di assoluto rispetto fino al 30 settembre. Dopo tiriamo le somme della nostra campagna e chi non lo ha fatto non ha più scuse. E sempre Gianni ha detto, dopo quella data, chi non ha fatto il vaccino sta a casa. Queste persone non si provino a venire nei luoghi pubblici perché la loro vaccinazione, la loro non vaccinazione per scelta, è una cosa inconcepibile nell'economia e nell'interesse di una comunità che vuole superare l'emergenza sanitaria. E quattro calciatrici della squadra femminile di Herat sono sbarcate stamani con un volo all'aeroporto di Fiumicino. Dopo l'evacuazione di Kabul, raggiunta dopo giorni di viaggio rischioso. Lo si apprende a Firenze dall'ONG Cospe che ha seguito tutte le fasi insieme alle autorità italiane attive sul posto. Il gruppo è di 15 persone. Altre componenti della squadra non ce l'hanno fatta ad arrivare alla capitale. Oltre altre non sono partite da Herat. Alcune, ben prima dell'occupazione di Kabul, da parte dei talebani erano migrate in Iran. Chiesa piena. Nel rispetto delle normative anti-Covid, a San Lorenzo, siamo a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, per i funerali di Enzo Galli, il 45enne morto mercoledì all'ospedale di Careggi, dove era ricoverato dallo scorso 8 maggio, dopo che aveva contratto il Covid. A fine aprile era rimasto bloccato una decina di giorni in India, dove insieme alla moglie era andato per adottare una bambina. Quando è tornato si è ammalato e fu ricoverato. Itaci Rail, siamo a Pistoia, ha convocato in modalità remota l'RSU degli stabilimenti per comunicare che a partire dal 30 agosto l'ingresso nelle mense aziendali del gruppo sarà consentito solo ai lavoratori in possesso del cosiddetto Green Pass. Ai lavoratori che non potranno accedere a mensa sarà consegnato un cestino da consumare in aree esterne predisposte con sedie, tavolini e coperture provvisorie. Lo rende noto la RSU FIOM di Pistoia, facendo però presente che pasto freddo e sistemazione esterna sono inaccettabili. Buca le gomme di un'auto in sosta e quando il proprietario si china per cambiare lo pneumatico, lui apre uno sportello e ruba quello che trova nell'abitacolo. Questa è la nuova tecnica di furto in auto a Firenze che la polizia sta rilevando e che ieri ha portato all'arresto di un uomo di 58 anni francese per furto aggravato. Arrestato un imprenditore e sospesa la sua attività con sanzioni per oltre 180 mila euro a Prato in una ditta di confezioni dell'abbigliamento gestita da cinesi. Lo rende noto la Prefettura, spiegano che nell'azienda siano stati trovati 28 lavoratori privi di contratto. Il datore di lavoro è stato arrestato e denunciato, oltre che per illecite sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, per impiego di mano d'opera irregolare. Un agente di commercio delle calzature di Empoli utilizzava parte del prestito Covid garantito dallo Stato per pagare i mobili di casa. Lo ha scoperto la Guardia di Finanza di Firenze e la Procura che ha disposto il sequestro del denario 8 mila euro per malversazione ai danni dello Stato, ipotesi di reato per cui viene indagato. È prorogato in Toscana fino a domenica 19 settembre in tutta la regione il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali, non si possono fare fuochi, e il divieto di fare qualsiasi proprio tipo di fuoco. Resta esclusa la cottura di cipi in braceri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze o all'interno delle aree attrezzate. E Lorenzo Tonelli è stato ceduto ufficialmente all'Empoli. Il difensore lascia la Sampdoria dopo due stagioni in maglia blucerchiata. In Liguria infatti ha giocato in prestito nel 2018-2019 arrivando proprio dal Napoli e collezionando 19 presenze. E poi da gennaio 2020, quando è stato riscattato dai Campani, in questo periodo con la Sampdoria, 32 presenze e un gol, a Empoli ha sottoscritto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Sara Morganti ha conquistato il bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo nel dressage individuale. La medaglia nell'equitazione vinta dalla 45enne di Quastelnuovo di Garfagnana è la dodicesima degli Azzurri a Tokyo, la prima che non viene presa nel nuoto. Il corridoio vasariano sarà aperto al pubblico nell'autunno del prossimo anno e sarà molto diverso e molto più vasariano di com'era fino al 2016, lo ha detto il direttore della Galleria degli Uffizi di Firenze. E per favorire la circolazione nell'ultimo weekend di agosto, in ragione dei maggiori flussi di traffico attesi, dalle 14 già di oggi, la stazione di Firenze in Pruneta sulla 1 sarà regolarmente aperta in entrambe le direzioni, grazie alla possibilità di disporre di una corsia supplementare all'interno dell'autostrada. Alle ore 1 di lunedì 30 agosto la stazione tornerà ad essere chiusa, in entrata per Bologna e in uscita da Roma, per consentire l'esecuzione della fase conclusiva delle lavorazioni entro il termine previsto del 31 agosto. Lo rende noto proprio autostrade. Vediamo come sarà il tempo domani, ci saranno possibili piogge e schiarite nel pomeriggio, i venti sono deboli, i mari mossi, le temperature in diminuzione. Grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci.